Mai come in questi mesi la libertà dei cittadini è stata sotto attacco. Tutti quelli che non si piegano al pensiero unico dominante devono essere cancellati. Vi pare normale che il sindaco di Roma abbia sfrattato una sede di impegno civile aperta nel 1946, scavata a mano dagli esuli Giuliano Dalmati come colle oppio nello stesso momento in cui tenta di allentare il piano degli sgomberi previsto per i centri sociali che si sono macchiati di decine di reati? Vi pare normale che Facebook decida di chiudere arbitrariamente una serie di pagine di comuni cittadini senza che vi sia un reato, senza che vi sia una sentenza della magistratura, senza che vi sia una ragione? Vi pare normale che Facebook non consenta l'utilizzo della parola zingaro ma non dica una parola su pagine che hanno come titolo una bestemmia? Vi pare normale che il sindaco di L'Aquila debba essere linciato per aver detto giustamente che considera vergognoso che i soldi per il decennale del terremoto di L'Aquila debbano essere usati per strapagare l'ennesima passerella di quel cattivo maestro che è Roberto Saviano?